Milano Cortina 2026 e l'abbiamo ovviamente invitata ad allenarsi popolare e a cercare la palestra popolare più vicina a loro. Chi pratica sport popolare, chi lotta contro la cementificazione, chi cerca di vivere la montagna in modo diverso, sia perché la vive ogni giorno. Qui per dire che Milano, le sue valli non sono fatte solo di cemento, ma sono fatte principalmente di cuori che lottano, anche se oggi sono un po' umidi. Buon corteo. Grazie a tutti. 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 ...i parchi per restituire territorio alle persone e invece si generano dividendi per pochi privati e fondi finanziari. ...fatto di speculazione, cemento, esproprio di proprietà pubbliche e riduzione...